In un monastero ci sono tre novizi che hanno superato tutti gli esami per diventare sacerdote. Gli manca solo l'ultima prova. Al che il sacerdote più anziano li convoca tutte e tre in una stanza, quando gli stanno tutte e tre davanti gli fa allora figlioli avete superato tutte le prove, gli manca solamente l'ultima e vedremo se siete degni di entrare a far parte della nostra congregazione religiosa. Spogliatevi dei vostri abiti. Gli fa spogliare tutte e tre nuti. Come stanno tutti e tre nuti il prete anziano che fa gli attacca sulla punta del pisello a ognuno un campanello. Gli fa mettere tutte e tre in fila. Apre la porta della stanza e da questa stanza esce una bellissima donna tutta nuda che gli comincia a passare davanti. Passa davanti al primo? Niente. Passa davanti al secondo? Niente. Come passa davanti al terzo? Dele, 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 dele. Questa zona, capito? E il prete solo guarda e mi fa così. Lo capisci da te figliolo che non puoi entrare a far parte della nostra congregazione. Raccogli i tuoi abiti e battene. Allora questo che fa? Senchina per raccogliere gli abiti come senchina così l'altri due. Dele, 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 dele. Ah 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 ah.